ciao ciao grazie per aver scelto questo video ASMR rilassante e ben trovato sul mio canale fail ASMR per chi non mi conoscesse io sono Federica quello che stai per guardare è un video ASMR in cui mi occuperò di eliminare le tue emozioni negative utilizzerò questo tono di voce sussurrato durante tutta la durata del video quindi come al solito ti consiglio di ascoltarlo indossando le cuffie oppure gli auricolari ma soprattutto di distenderti e di concederti qualche minuto per te è probabile che questo video riesca persino a farti addormentare vediamo un po' se riuscirai se riuscirai a tenere gli occhi aperti fino alla fine su questo mio microfono ho inserito diversi diversi bigliettini sogno di essi ho scritto un'emozione o uno stato d'animo negativo e andrò a rimuoverli uno ad uno il trigger il trigger che accompagnerà la mia voce sarà quindi quello degli sticky sounds suoni appiccicosi spero possa essere molto rilassante se l'idea ti piace non dimenticare di farmelo sapere lasciando un mi piace e se non sei ancora iscritto a questo canale fallo attivando la campanellina per non perdere i prossimi video rilassanti fatto? bene è arrivato il momento di iniziare il primo stato d'animo negativo che andiamo a rimuovere è l'insicurezza quante volte ti sei sentito o sentita insicuro insicuro bene è arrivato il momento di gestinare questa insicurezza perciò perciò l'accettiamo via la prossima emozione negativa è la collera se spesso ti capita di sentirti in collera forse è arrivato il momento di ristabilire un equilibrio nel tuo stato emozionale liberiamoci liberiamoci della collera direi che ultimamente molti di noi stiano avendo anche dei problemi ad addormentarsi si tratta dell'insonnia e forse anche tu sei insonnia e per questo stai guardando questo video ecco l'insonnia 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 la nostra nemica vogliamo scacciarla vogliamo scacciarla e così adesso ce ne liberiamo ce ne liberiamo un'altra emozione negativa è l'ansia ma se mi conosci già da un po' sai cosa dico sempre che dobbiamo imparare a conoscere l'ansia e a stare un po' con lei per comprendere cosa voglia comunicarci spesso l'ansia ci sta dicendo che stiamo sbagliando qualcosa che non ci stiamo ascoltando davvero il lavoro che dovrai fare su di te è quello di riuscire a superare lo stato ansioso dando ascolto a ciò che vuoi davvero in questo modo l'ansia sarà scacciata via mi dicono anche che potresti aver sofferto qualche volta di fobia sociale la fobia sociale è una sorta di ansia da prestazione che ci colpisce quando siamo in situazioni sociali quando ad esempio dobbiamo parlare al pubblico o dobbiamo vedere delle persone o semplicemente dal volta uscire di casa uscire dalla nostra zona di comfort e incontrare gli altri potresti aver provato fobia sociale al lavoro a scuola o all'università ma anche nella tua committiva di amici o in famiglia ma adesso noi la distruggiamo cosa abbiamo qui? la tristezza non c'è motivo di essere tristi ancora adesso prova anche se è difficile a fare un sorriso alla vita e la tristezza se ne andrà ecco ecco una condizione molto molto frequente la famosa fame nervosa quando in pratica ti dirigi compulsivamente verso la dispensa o il frigorifero perché sei nervoso o nervosa e senti un vuoto in te che ti sembra di poter colmare con il cibo ma non funziona mai beh direi che possiamo oggi liberarci anche della fame nervosa se sei d'accordo se sei d'accordo l'amore anche tu provi spesso spazi l'umore beh diciamo che aumentano lo stress del nostro organismo del nostro organismo sarebbe meglio avere un certo equilibrio che come ti ho detto prima da oggi noi cercheremo di ritrovare liberiamoci liberiamoci degli spazi d'umore guarda 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 quante emozioni negative abbiamo già tolto abbiamo adesso una condizione molto molto importante la distimia è una forma di depressione lieve ma che può essere invalidante per chi l'ha attraverso uno stato di malinconia perenne una non volontà di alzarsi dall'est un senso di inadeguatezza che sembra più forte di noi non la vogliamo non la vogliamo e allo stesso modo voglio che tu adesso ti liberi dell'apatia cioè di quello stato in cui non senti le emozioni sono importanti devi riuscire a riconoscerle a dar loro un nome e quando sono troppo negative a superarle puoi farcela sei molto forte ecco che strappiamo l'apatia sparita che mi dice della mancanza di concentrazione ti capita? a me capita spesso la meditazione può aiutare in questi casi sul mio canale trovi qualche meditazione guidata ma ne farò altre presto per aiutarti e intanto distruggiamo la mancanza di concentrazione non ci serve alzi la mano a chi non ha provato almeno una volta questo stato d'animo negativo di attaccamento al passato di incapacità di superare alcune situazioni che sono ormai finite oggi è un giorno nuovo è il momento di andare avanti e di scrivere una pagina nuova sul libro della vita sono rimasti due foglietti delle emozioni negative e il primo che andiamo a togliere è lo stress liberiamoci 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 dello stress cerchiamo di prendere ciò che ci capita con più serenità anche se a volte è molto molto difficile e forse è il momento di rallentare un po' il ritmo addio in ultimo la suscettibilità se sei troppo suscettibile troppo permalosa o permalosa se senti che le parole degli altri hanno un peso troppo forte su di te allora di sicuro devi lavorare sulla tua autostima sul tuo livello di stress l'ironia l'ironia e l'autoironia spesso riescono a distruggere in parte la suscettibilità se ti senti calma calma sereno sereno vedrai sarai molto 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 meno suscettibile ed è questo il mio ultimo augurio per te ecco adesso che abbiamo eliminato le due emozioni negative siamo pronti per andare a dormire perciò ti auguro la buona notte lascia un mi piace mi raccomando per farmi sapere che il video ti è piaciuto e anche un commento per lasciare traccia del tuo passaggio e se ti va noi ci vediamo come al solito nel prossimo video bacini fatosi adesso adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della fairy crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte